Siamo all'Istituto di Medicina Legale Siamo all'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Torino dove è in corso il convegno maltrattamento ed abuso sessuale nel minore e nell'adulto, aspetti giuridici e medico-legali, una a due giorni che si sta tenendo oggi il 4 maggio e si terrà anche domani il 5 maggio. E' con noi il dottor Lorenzo Varetto che ha appena finito il suo intervento su aspetti medico-legali del maltrattamento. Io ho assistito al suo intervento e mi hanno colpito due cose. Primo, l'invito alla cautela che non deve sfociare però nella reticenza da parte del medico che può refertare o no. Lei ha citato in particolare le difficoltà medico-legali legate all'anamnesi, spesso inesistente o inattendibile, alle possibili patologie che simulano delle lesioni cutanee, all'autolesionismo e alla suggestione che... L'aspetto su cui le farò poi una domanda più approfondita. Allora, prima cosa, il medico che lavora nel pronto soccorso o il medico di famiglia o il pediatra è così disinvolto e abile senza dubbi nel decidere se refertare o meno un aspetto patologico che lui ha constatato? Cioè, diciamo subito che la refertazione è la documentazione che uno deve poi inviare alla Procura della Repubblica. Allora, fare un referto alla Procura della Repubblica è una responsabilità, soprattutto se non lo si fa quando sia dovuto e necessario, ma qualche volta anche quando lo si fa se non è fondato. Nel secondo caso, soprattutto perché si avvia un'azione giudiziaria che è un qualcosa che comunque è doloroso per chi la subisce, ma anche impegnativo per chi la manda avanti. Nelle situazioni di maltrattamento, dove la vittima è spesso una persona che è convivente, che fa parte del nucleo familiare, sia che sia un minore, un adulto, un anziano, è ancora peggio perché alla segnalazione segue, se non proprio con un automatismo, ma con grande facilità, un provvedimento che separa la vittima rispetto a quello che è il possibile autore. È chiaro che come sanzione, diciamo così, accessoria immediata che avviene prima di decidere, prima che sia deciso se quella persona è davvero colpevole o innocente, è un provvedimento che può devastare una famiglia e le singole persone. Quindi, referto da fare, ma con una certa cautela e evitando dei toni che portino già ad una sentenza, in sostanza, fin da subito. Quindi con molta prudenza, segnalando tutti gli elementi pro e contro al sospetto, rispetto al sospetto di un reato di maltrattamenti. I giornalisti, per diventare giornalisti, devono conoscere l'iter giudiziario, soprattutto dibattimentale. Quindi qualsiasi giornalista sa, poi a volte fa finta di dimenticarsene per farlo scopo, comunque sa che la Procura della Repubblica rinvia giudizio, ma che una verità giudiziaria, tra l'altro, perché la verità in sé non esiste, la verità giudiziaria la pronuncia soltanto una Corte. Non è di sicuro la Procura della Repubblica che dice che questo caso merita di andare in aula ed essere discusso. Ecco, detto questo, non pensa che forse anche ai medici un po' di procedura penale varrebbe la pena di insegnargli alla meglio? Sarebbe una buona cosa. I medici sono ignorantissimi sulla procedura penale, cioè su come si svolge un processo. Uscendo dal corso di laurea, avendo dato l'esame di medicina legale, dovrebbero conoscere le nozioni del codice penale che sono relative al loro mestiere, quindi le lesioni personali, l'omicidio e via discorrendo. Ma sulla procedura sanno molto molto poco, tante volte nulla. Sì, poi ci sono ormai delle pene che sono di tipo mediatico, nel senso che si sputtano una persona in televisione sui giornali e questa viene considerata dal punto di vista sociale la pena. Detto questo, però, io sono rimasto abbastanza impressionato dall'aspetto della suggestione, nel senso che dalle domande si capiva esattamente che questo è un problema fondamentale, nel senso che nella suggestione ci sono anche le convinzioni personali. La suggestione è fatta di convinzioni personali che derivano da esperienze personali, che derivano dallo spirito del tempo, che derivano dall'opinione di persone a cui crediamo. Tutti noi siamo sempre vittime di suggestione. Viviamo guidati dalla suggestione, in genere una suggestione benigna, benevola, che ci porta a comportarci bene, la suggestione benevola può essere catastrofica in certi casi quando mi indirizza a pensare che tutti i bambini che vedo sono dei bambini maltrattati o che quasi tutti i bambini che vedo sono bambini maltrattati o quando la mia suggestione fa sì che io pensi che l'allontanare il bambino dal genitore sia il male minore in una determinata situazione. Possono essere situazioni vere e possono non essere vere. Certo che combattere contro la propria suggestione è l'esercizio più difficile in medicina legale, nell'amministrazione della giustizia e anche per quel medico che debba fare o non fare, decidere se fare o non fare un referto in un determinato caso. E quello che in giurisprudenza si chiama pregiudizio, in certe volte. È un pregiudizio. Tutti noi siamo stati vittime di situazioni che poi magari a posteriore ci sembrano ridicole. Io mi ricordo che quando ero all'elementare e alle medie si raccoglievano le cartine di alluminio, delle pacchetti di sigarette o delle gomme da masticare e con l'idea che quando se ne fosse raccolti un certo numero di chili il cane per i ciechi si prendeva il cane per i ciechi o la carrozzina per l'invalido sono tutte delle leggende metropolitane ma ci abbiamo creduto più o meno tutti e in questo modo capita che l'operatore a forza di vedere situazioni disastrose magari si formi un pregiudizio senza volerlo, in perfetta buona fede ma che sia poi condizionante. E ripeto, a proposito di processo mediatico per una persona, poniamo l'esempio un padre accusato di violenza sessuale sul figlio l'essere poi condannato alla fine del processo è molto meno grave rispetto al patimento che subisce in tutta l'indagine preliminare del processo nell'ipotesi che sia innocente ovviamente. e al danno che si infligge a quella che sarebbe la vittima che in realtà poi risulta non essere. Il paradosso della nostra società fondata sul garantismo è che le tutele, come una comunicazione giudiziaria che è una tutela in fondo e poi in realtà un boomerang nel senso che è anche una tutela ma è anche un atto pubblico che quindi può essere divulgato e quindi voglio dire la tutela insomma diventa un guinzaglio molto molto lungo. È un guinzaglio lungo, sì sì. Siamo imperfetti sicuramente in tutta l'amministrazione della giustizia parlo per il mio mestiere e soprattutto in questi casi in cui sicuramente anche quando si fa giustizia nel modo giusto parallelamente una quota di danno la si fa. Se allontano un bambino maltrattato dal suo nucleo familiare da un lato l'ho salvato da certe cose ma d'altro canto l'ho pur sempre allontanato dal suo nucleo familiare e questo è difficile avere la verità infusa che mi permetta di dire cosa sia meglio nell'un caso oppure nell'altro. Sono sempre situazioni dolorose. Senta, il pregiudizio o come diceva lei la suggestione che è un termine, dal punto di vista culturale più preciso in fondo la suggestione è ubiquitaria in tutti i pezzi di vita sociale che devono poi giudicare dei fatti di rilievo penale e quindi colpisce in ugual misura medici, polizia giudiziaria e magistratura? Secondo me colpisce tutti noi è un patrimonio dell'umanità se vogliamo definirlo così. Deteriorano? No, il deterioro è quando si applica male alla giustizia quando non la si combatte adeguatamente però è ciò che dà anche il tocco di personalità alle nostre azioni. Certo che se uno deve far giustizia deve combatterla ma è molto meglio sapere di essere suggestionabili e combattere contro la suggestione piuttosto che pensare di essere perfetti. Lei ha presentato nelle diapositive un caso di una ragazzina marocchina che aveva fatto denuncia perché le avevano, secondo questa denuncia le avevano inciso una svastica sull'avambraccio e lei ha smontato questa denuncia dicendo così che era impossibile vista la grafica della svastica era impossibile che lei non fosse d'accordo. Sì, era un caso che è successo alcuni anni fa. Un bel esempio di condivisione della suggestione in tutti gli ambiti che entrano e mettono becco in una vicenda penale. In questo caso in una prima occasione aveva una svastica incisa nell'avambraccio sinistro ed erano stati collettivamente presi da suggestione cioè presi non avevano evidentemente combattuto la propria suggestione adeguatamente i medici che l'avevano vista poi quando è ricomparsa dopo un anno con una svastica sull'altro avambraccio è stato molto più facile non essere suggestionabili. i giornalisti si salvano dicendo che non avevano suggestioni ma raccontavano quello che succedeva. Eh sì, certo. La ringrazio. Grazie mille. Buongiorno. Grazie mille.